Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro e l'Insubria è sicuramente un'ottima scelta. Mi chiamo Beatrice e sono una studentessa iscritta al secondo anno del corso di Storia e Storie del Mondo Contemporaneo. Insubria per me significa tre cose, crescita in un ambiente bellissimo in mezzo al verde, significa qualità grazie ai professori molto competenti e sempre disponibili che abbiamo e infine questo corso significa per me futuro perché grazie alla conoscenza delle orme del passato siamo pronti per lo slancio nel futuro e potete esserlo anche voi se scegliete Insubria.